e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi voglio fare un po il punto della situazione su quello che sarà diciamo tra virgolette il futuro del canale visto che vi voglio spiegare un po i miei progetti sui viaggi e su quello che comunque potrete poi trovare appunto all'interno del canale i prossimi viaggi che farò il prossimo viaggio importante che farò sarà ottobre quando avrò le fere quindi diciamo che sto un po pensando alla meta in questo momento e diciamo in cui ho diciamo due opzioni ovvero la prima che è quella che per il momento sta è in testa diciamo alla classifica per un buon 75 per cento è di fare una sorta di giro d'italia partendo da bergamo appunto e andando verso sud passando da comunque toscana un po varie regioni d'italia per arrivare poi comunque anche a attraversare la sicilia e poi penso anche di andare a fare tappa in sardegna questo è il progetto diciamo di viaggio che al momento in testa per ottobre l'altro progetto che avevo era quello di andare verso la grecia però problema il problema andando verso l'estero in questo momento che c'è il covid comunque non si sa ancora bene o comunque ci sono posti che magari i contagi stanno salendo dopo magari ti faranno storie al ritorno oppure non ti faranno addirittura rientrare oppure al rientro dovrai fare la quarantena quindi ancora è un po una cosa una situazione in forse quindi per il momento come come principale meta ho appunto di fare una sorta di giro d'italia che durerà un paio di settimane quindi questo è il progetto per quanto riguarda il viaggio in grosso diciamo di quest'anno in più comunque farò ancora piccoli weekend tipo quello che ho fatto settimana scorsa in svizzera quale video comunque lo vedrete nelle prossime settimane saranno credo un paio di video di anche lì seguite il canale iscrivetevi perché sono andato a vedere posti davvero molto belli ho fatto un bel giro non vi anticipo niente seguite appunto il canale in più altri progetti per il canale sono che in pratica mi piacerebbe iniziare a collaborare magari con alcuni store su amazon che appunto magari vendono prodotti relativi ai viaggi in moto adesso sto provando comunque a contattare qualche azienda appunto se riescono a magari mandarmi qualche prodotto da potervi recensire e potervi proporre magari anche con qualche coupon sconto ci sto lavorando non dico che riuscirò a farlo però io spero di sì per questo se volete che questa cosa possa andare in porto vi invito anche ad iscrivervi al canale telegram che è qui sotto in descrizione dove appunto posto delle offerte che trovo su amazon riguardante appunto il mondo delle moto so che molti diranno sono cinesate però io voglio appunto provare ad acquistare comunque farmi mandare prodotti da appunto da amazon da venditori di amazon che appunto trattano di articoli per i motociclisti e provare magari a vedere la qualità di persona e se magari un bel prodotto deve comprare un bel prodotto se è un brutto prodotto vi dirò guarda no ma acquistatelo a un brutto prodotto questi sono i principali programmi che ho per il canale appunto di viaggi e comunque avere una parte anche riguardante le recensioni dei prodotti o spero magari più avanti di riuscire anche a farvi delle recensioni ancora di magari moto nuove recensioni che poi vabbè non saranno tecnica al cento per cento ma io vi darò magari le mie sensazioni su quello che riguarderà anche magari qualche moto nuova che uscirà ci sono ad esempio un paio di moto che mi interesserebbe andare a vedere che sono in uscita quando usciranno magari andrò a provarle e vi farò sapere ad esempio vi faccio vi cito alcune moto che potrebbero uscire in un orden della usquarna che a me intriga molto anche a livello di estetica vorrei andare a provare anche la Benelli 800 la TRK Benelli 800 che sta per uscire anche quella penso perché ci sono rumors di settore che dicono che è in fase di collaudo e quindi dovrebbe uscire anche questa moto quindi voglio portarvi magari anche dalle recensioni questo è il diciamo programma più che altro del canale appunto che sarà sicuramente incentrato più sui viaggi che sul resto però voglio un po' fare un po' il tour unire un po' di cose appunto per potervi dare la possibilità di avere più contenuti possibili io cercherò di di essere sempre puntuale con un video settimana adesso sta uscendo la domenica sto riuscendo a portarvi un video settimana che con il lavoro comunque mi diventa ogni tanto anche un po' difficile riuscire a portarvelo giusto tutte le settimane però comunque mi impegnerò sempre per appunto per cercare di portarvi almeno un video settimana spero comunque più avanti di poter riuscire anche avere il tempo di magari aumentare i video ovvero magari arrivare a due volte a settimana però comunque già con una cadenza settimanale vedo che sta andando molto bene e infatti vi ringrazio perché stiamo crescendo molto a livello di canale e anche come community perché sotto i video ci sono sempre più commenti perciò vi ringrazio di questo vi ricordo ancora che se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale telegram seguitemi sui vari social instagram facebook e niente ragazzi io vi saluto qua e alla prossima ciao 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 ciao